Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma specialmente benvenuti in un nuovo unboxing. Sicuramente avrete letto già dal titolo, di conseguenza sapete già cosa andremo ad unboxare oggi. Ed è una telecamera di sorveglianza. Questo prodotto è molto interessante perché va a colmare, diciamo, il problema di chi magari non ha alla portata di dove vuole mettere la telecamera una presa di corrente oppure la connessione wifi, o anche entrambe. Difatti la cosa più interessante di questa telecamera è la possibilità di andare a utilizzarla con il pannello solare perché sì, all'interno di questa telecamera ci sono delle batterie che vanno a ricaricarsi con il pannello solare. Magari di giorno ovviamente si ricaricano, mentre di notte hanno la carica per poter andare a alimentare la telecamera. Dunque sfrutta il pannello solare per andare ad autoalimentarsi, di conseguenza non ha bisogno di una presa di corrente, va a sfruttare una sim inserita all'interno per potersi collegare ad internet e di conseguenza funzionare. Ed è perfetta per dei luoghi all'aperto senza la possibilità di utilizzare una connessione wifi. Prima di iniziare però volevo ringraziare veramente di cuore i ragazzi di Anquay, che è la ditta che produce queste telecamere di sicurezza, che si occupa principalmente di prodotti legati alla sicurezza domestica e all'energia solare per i giardini. Hanno deciso di mandarmi una telecamera per svolgere questo video, quindi grazie della collaborazione, grazie di avermi mandato questa telecamera, in modo che io posso andare a provarla per voi e vedere se è un buon prodotto anche per poterlo poi utilizzare. Vi lascio se vi interessa dare un'occhiata al sito il link qua sotto, così potete vedere i prodotti che questa azienda offre. Inoltre Anquay mi ha fornito un codice sconto per voi del 30%, quindi se vi interessa questo prodotto, che in ogni caso vi lascio il link qua sotto in descrizione, troverete il link del prodotto e il codice sconto del 30% per acquistare i loro prodotti. Detto questo io procederei con l'unboxing, di conseguenza vediamo che cosa c'è all'interno. Ed ecco qua la scatola nella quale vi arriva la telecamera, spero che si riesca a vedere qualcosa con questa luce, in ogni caso qua abbiamo il logo dell'azienda Anquay, e appunto la Smart Solar Power Camera. Ok. La scatola è molto semplice, sul top abbiamo l'informazione e il nome della telecamera, uguale anche qua sul lato. Su questo lato qua, se si riesce a vedere, abbiamo le caratteristiche di questa telecamera, ovvero che ha un software che segue le persone, funziona col 4G, ha la possibilità di andare a sfruttare un cloud per andare a salvare le registrazioni, è a 360 gradi, quindi noi potremmo andare a muovere la telecamera tramite la replicazione a 360 gradi. La batteria è ricaricabile, perché all'interno ovviamente c'è una batteria che si ricarica con il pannello solare in dotazione, infatti qua abbiamo il pannello solare, abbiamo le notifiche che si possono avere push sul telefono, abbiamo appunto l'applicazione, e soprattutto ci indica che qua ha una visione notturna a colori. Poi, ok, anche di lato qua, stessa immagine, qua abbiamo tre feature di questa telecamera, che abbiamo detto già prima, e sotto non c'è niente. Andiamo a fare l'unboxing, quindi forbici e tagliamo qua i due scotch di scotch, sigillo. Apriamo la scatola, vi faccio vedere i favori di camera, che cosa c'è all'interno. Abbiamo il polistirolo protettivo, abbiamo, attenzione, questo non me l'aspettavo, abbiamo le guide per il montaggio, all'interno addirittura c'è una sim card, questa non me l'aspettavo, molto utile anche perché magari chi non ha una sim per poter andare a utilizzare, abbiamo qua la possibilità di avere una sim esterna. Questa non me l'aspettavo, ottima cosa che c'è all'interno, diciamo. Subito troviamo il pannello solare. Abbiamo il pannello solare, protetto con questo altro polistirolo, e il suo cavo abbastanza lungo. Poi, casomai, se vi interessa, vi andrò a vedere quanti metri è questo cavo. Quindi abbiamo il pannello solare, all'interno abbiamo un cacciavite, abbiamo una pinzetta, che poi vedremo cosa serve, perché forse per la sim è una scheda, poi abbiamo un cavo USB A, USB C, i tasselli e le viti per montare la telecamera, il suo supporto, veramente molto ricca come confezione, c'è un sacco di cose. Poi abbiamo un'altra staffa con i suoi tasselli, dopodiché io direi che possiamo andare a prendere l'ultimo pezzo forte, ovviamente la telecamera, e all'interno non c'è più niente. E vi faccio vedere la telecamera, è veramente molto massiccia, qua abbiamo appunto le antenne per andare a ricevere meglio il segnale, qua abbiamo il suo obiettivo, io adesso riesco a vedere l'obiettivo, e qua sotto c'è una... se riesce a vedere... e qua c'è una porta per andare ad inserire la SIM, l'SD per registrare i video, e il tasto RESET, che si può coprire con questa sua tappo guarnizione in gomma, e così non ci entra l'acqua. E qua sotto, mi dimenticavo, qua sotto c'è lo slot per andare a inserirci il pannello solare. Praticamente questo si utilizza per montarlo magari a parete, si va a montare a parete sui tasselli, poi si inserisce qua dietro, e poi con questi quattro, diciamo, tappini si vanno a avvitare la telecamera a supporto per averla così attaccata al muro. mentre questa stessa qua che andiamo ad aprire serve per andare a attaccare il pannello solare, come vedete qua dietro. Questo era l'unboxing e tutto il contenuto di questa telecamera. Visto che all'interno di questa telecamera c'è questa SIM, quindi possiamo andare a utilizzare la loro SIM, ho dato un'occhiata sul web per vedere i piani che ovviamente offre questo EIOT Club. Praticamente andando sul sito, andando ad inserire il codice che trovate qua nella vostra SIM, potete vedere questi piani qua. Il piano di un mese costa 12,90€, il piano di sei mesi costa 59,90€, un anno costa 90,90€, c'è anche il piano di due anni che viene 179,90€, e quindi questi qua sono i piani che ci mette a disposizione questo EIOT Club per andare ad attivare la SIM in modo che possiamo andare a far funzionare questa telecamera. Se volete andare a farvi una SIM in un operatore, magari qualsiasi, vi costrerà anche di meno e potete magari utilizzare quella come connessione internet. Ed eccomi tornato per andare a provare a testare effettivamente questa telecamera. Mi devo correggere su una cosa che ho detto in precedenza nel video qualche giorno fa. Esistono due versioni, la versione 4G, che è questa, come potete vedere qua, non so se si riesce a leggere, e poi esiste la versione Wi-Fi. C'è una differenza di prezzo, mi pare che questa venga sui 110€ circa, mentre quella con il Wi-Fi sta attorno agli 80€, più o meno, casomai vi lascio qua sotto o vi lascio il link qua sotto se vi interessano. Quindi questo, adesso andiamo a provarlo con la SIM e vediamo come funziona, come si configura e tutto il resto. Quindi, qua sotto abbiamo il tastino ON-OFF. Per andare ad inserire invece la SIM, ci aiutiamo con questa pinza e andiamo ad inserirla nello slot, che se si riesce a vedere, c'è uno slot qua, uno per la SIM e uno per l'SD, c'è scritto proprio. Quindi adesso io non vado ad attivare, diciamo, non vado a usufruire della SIM che c'era all'interno, ma provo a utilizzarlo con la SIM del mio telefono. Quindi adesso andiamo a prendere la SIM, giusto così per fare un test per vedere se tutto funziona correttamente. Quindi io adesso prendo la SIM, la vado ad inserire con il verso che indica qua il disegnino all'interno, va inserita più o meno come una microSD. Quindi bisogna spingere, fa il solito clic e va all'interno. Una volta che abbiamo inserito la nostra SIM, chiudiamo lo sportellino qua, per configurare e per attivare questa telecamera, l'applicazione dedicata si chiama Ubox, potete scaricarla dall'App Store oppure da Google Play, in ogni caso nella confezione c'è il QR code per andare a scaricare l'applicazione per questa telecamera. Ora io vi registro lo schermo così andiamo a configurarla insieme, quindi apro l'applicazione e andiamo a cliccare su aggiungi dispositivo. Ovviamente qua c'è sia la versione Wi-Fi che la versione 4G. Noi abbiamo la versione 4G, quindi clicchiamo su installa dispositivo 4G. Inserisci la carta SIM, installa l'antenna e alimenta dispositivo. Quindi io andrei a girare l'interruttore, mi si accende una lucetta rossa se si riesce a vedere. la vedete che lampeggia e praticamente dobbiamo aspettare che diventi una luce blu fissa. Ok, ecco, come volete vedere adesso la luce è blu fissa questa sopra qua. Una volta che la luce blu è fissa, come in questo caso, andiamo su a mettere la spunta su luce blu e andiamo a fare in seguito. Ora, scanalizziamo il QR code di questa telecamera che di solito è qua sul top, la mia telecamera c'è la qua sopra, il QR code. Ora adesso sta collegando il dispositivo, quindi attendiamo qualche secondo. Ok, l'ha trovata. Qua possiamo andare a scegliere il suo luogo, possiamo andare a scegliere dove andremo ad installare la telecamera, mettiamo porta d'ingresso, mettiamo casa mia e facciamo fine. Dispositivo giunto con successo. Ok, ok, funziona. Allora, io adesso andrò a posizionarla qua verso di me, così potete vedere anche voi. E adesso vediamo come possiamo muovere questa telecamera, vediamo anche la reattività. Allora, c'è da dire che quando io vado, ok, qua è arrivata la fine, la giriamo così, io direi un secondo, diciamo, di lag, che però ci può anche stare, diciamo, cosa vogliamo pretendere di più. Adesso la posiziono qua, così mi riprendo anche qua, si abbassa ed eccomi qua! Ciao! Oh, troppo, troppo, un po' di su. eccomi qua! Questa è la telecamera, la ripresa, io direi che è una qualità anche decente, qua non c'è tantissima, tantissima luce, addirittura c'è anche lo zoom. interessante, come, come reattività non è niente male, come reattività non è niente male, io a sto punto, facciamo una cosa, proverei a fare anche all'esterno. Ok, ultimo test, adesso l'ho messa fuori dalla porta, come potete vedere adesso è al buio, ovviamente il pannello l'ho messo lì dietro attaccato alla luce, quindi in modo che riesca a percepire un po' di luce, infatti qua si vede che la batteria va in carica, però diciamo non è come l'energia solare. Detto questo, adesso io l'ho messa fuori e quando praticamente rileva il buio vengono accesi questi quattro led sulla telecamera. In questo caso si può passare alla modalità infrarosso, questa è la visione che si può avere in infrarosso, puoi mettere anche in HD e qua si vede ancora meglio. Nel complesso io credo che sia veramente una buona fotocamera. Casomai, se vi interessa sapere magari la durata della batteria, se con la carica del giorno riesci comunque a rimanere attiva tutta la notte e quindi andrò a fare questi genere di test. Quindi se ti interessa casomai pubblicherò degli aggiornamenti nei commenti qua sotto. Bene ragazzi, considerazioni finali per questa telecamera. Allora, funziona, funziona anche bene e l'immagine, ovviamente ci sono le due definizioni, c'è l'immagine SD e l'immagine HD e quella HD funziona veramente bene. Magari dove non abbiamo una presa di corrente, questa è veramente una buona soluzione. La reattività è discreta, insomma, per i prodotti del genere non esisterà mai un prodotto che appena clicco per spostare l'obiettivo si sposti subito. Un secondo circa di lag, diciamo, un secondo di distanza tra l'impulso e il movimento ci sta quindi veramente bene. Come ho detto prima, qua ci sono questi quattro LED che vanno ad accendersi fare luce di sera se non ci sono anche l'infrarosso che sarà un'altra telecamera qua sotto o penso che sia questo sensore insomma funziona sia con i LED che va a illuminare l'area sottostante per andare a vedere meglio se no con l'infrarosso. Poi ovviamente si possono andare a personalizzare tutte le notifiche del caso tutti i movimenti tramite l'applicazione andando appunto a cliccare sulle notifiche che magari vi possono arrivare quando rileva un movimento e di conseguenza registrare o sul cloud se volete pagare oppure sull'Sd il movimento in modo che poi potete andare a vedere magari giorno per giorno quello che è successo il movimento che ha registrato e tutto il resto. Quindi credo che sia un buon prodotto quindi se vi interessa vi lascio il link sotto in descrizione e vi ricordo che trovate anche in descrizione il codice sconto del 30% per comprare questo prodotto. Bene io penso di aver detto tutto per qualsiasi casomai dubbio o domanda che avete da fare a riguardo potete farmi un commento qua sotto io andrò a rispondere e niente questo era quanto la telecamera il pannello solare con 4G LTE spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile se vi è piaciuto ovviamente lasciate un like per supportare questo video ovviamente iscrivetevi al canale se volete continuare a vedere questo genere di video perché magari grazie a voi anche e alle iscrizioni che mi date magari posso fare più video di questo genere qua perché magari le aziende mi mandano più prodotti quindi se vi iscrivete mi fate un grande favore a me è gratis detto questo io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto e non mi resta che salutarvi quindi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti